Dopo grande successo dei like all'ippodrome sulla nostra pagina, siamo venuti qui a Mon Falcone per vedere lo stato dell'ex discoteca. La curiosità ci spinge a scoprire se c'è qualcosa di nuovo in questo posto. Venite con noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mamma mia! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!